di una donna araba, di una donna egiziana, per il suo uomo che andava in guerra, quindi una richiesta di pace è l'introduzione di un brano, di una canzone, di un altro gruppo di rock progressivo degli anni 70 che erano gli aree a cui la PFM era molto legata perché il leader carismatico e la voce unica che avete sentito all'inizio della poesia era del loro leader che era Demetrio Stratos e la PFM per onorare questo grande cantante scomparso ha scritto questo brano che è Maestro della Voce a Oh, 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 oh. Per campare, vado di stelle di donne, con te soli da parlare. Il giorno è terminato, solo un cielo sempre vero, occhi chiari un'espressione dal periero. Il giorno è terminato, solo 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 un'espressione dal periero.